Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Persistono condizioni dal tempo contraddistinte da diffusa nuvolosità, con la possibilità di qualche solata pioggia. Sabato 6. Giallo nuvoloso coperto, con la possibilità di qualche pioggia sull'Alta Calabria, specie aria del Pollino. Non escludiamo comunque piogge isolate e temporanee anche sul resto del territorio regionale. Venti dei quadranti orientali, con rinforzi sulle tirreniche, mari mossi, molto mosso solo il basso Ionio. Temperature senza particolari variazioni. Nuvolosità generale prevista anche per domenica 7 novembre, ma con bassa probabilità di fenomeni associati. Temperature diurne in nuovo e lieve rialzo. Bene, per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.